Una e un minuto, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del telegiornale. Cominciamo subito con la politica. È stata la giornata della fiducia al Senato per il nuovo esecutivo giallo-verde. Giuseppe Conte si è presentato in mattinata con un discorso nel corso del quale ha illustrato il programma, un discorso di più di un'ora e dieci minuti, applaudito almeno 60 volte dalla maggioranza che lo sostiene. L'Aula invece ha applaudito in maniera totale l'intervento della senatrice a vita Liliana Segre, che ha raccontato gli orrori di cui è stata protagonista, e il Premier quando ha ricordato il maliano Sacco che è stato ucciso in Calabria. Nel pomeriggio prima del voto ci sono state le repliche, dura quella di Matteo Renzi e quella di Monti. Vediamo. Senatori presenti 314. Il governo Conte incassa il suo primo voto di fiducia. 171 sì, 10 in più della maggioranza assoluta, compresi i due senatori eletti all'estero e due ex grillini. 117 i no, Forza Italia, PD, PSI più Europa, Liberi Uguali. 25 gli astenuti, tra cui 18 di Fratelli d'Italia. Anche i tre senatori a vita presenti, Monti, Segre e Cattaneo, si astengono. E il Premier twitta, il governo del cambiamento ha ottenuto la fiducia del Senato, domani si prosegue la Camera e poi si inizia davvero a lavorare per il Paese. Nel corso del suo intervento in aula, Conte annuncia gli impegni del suo governo, per cui rivendica la definizione di populista, se questo significa ascolto della gente, spiega, e poi elenca. Superamento del regolamento di Dublino, sull'immigrazione equa, distribuzione dei clandestini tra i paesi gue, sul reddito di cittadinanza, lotta alla corruzione con la figura dell'agente provocatore, lotta agli sprechi, legge sul conflitto di interessi e taglia le pensioni d'oro. Parole che piacciono ovviamente a Lega 5 Stelle, ma non alle opposizioni che invece sono dure. Per il PD parla Renzi, che sfida il governo e dice, tocca a voi, non avete più alibi, noi non faremo sconti. Il capogruppo di Forza Italia, Bernini, attacca. Siamo chiamati a pronunciarci su un governo che è la maschera di tante contraddizioni, il frutto del compromesso. Mentre la russa per Fratelli d'Italia motiva la decisione di astenersi, con un guarderemo ai fatti. E Grasso, per Leo, annunciando la sfiducia, spiega, non riesco a immaginare niente di più ignobile di discriminare i bambini nell'accesso all'asilo nito. Domani, alla Camera, è voto nel pomeriggio. Al vertice europeo che si è svolto oggi in Lussemburgo è stata affossata la revisione del Trattato di Dublino, quello che si occupa tra l'altro del diritto d'asilo per i rifugiati. Per motivi diversi, l'Italia e la Spagna si sono schierate con il gruppo Visegrad e altri paesi che non hanno approvato la proposta fatta dalla Bulgaria. Inoltre, il ministro belga ha proposto di tornare ai respingimenti in mare, aggirando così l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, mentre l'Austria, che da luglio prenderà la presidenza del semestre europeo, annuncia una rivoluzione copernicana che punti più sulla tutela delle frontiere che sull'accoglienza. Vediamo. Non è passata la proposta della presidenza bulgara, che aveva presentato una riforma del Trattato di Dublino. I ministri degli interni di Italia, Spagna, Austria, Slovacchia, Romania, Slovenia ed Ungheria hanno detto di no. Si sono invece astenuti quelli di Polonia, Estonia e Gran Bretagna, mentre Grecia, Cipro e Malta hanno preferito non prendere una posizione chiara. Nulla di fatto dunque nel vertice di Lussemburgo, un incontro che sarebbe dovuto servire a mettere le basi per il summit di fine giugno. Dopo il nulla di fatto, la speranza che la situazione di Stallo si sblocchi è ora nelle mani del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, al quale è affidata la missione di trovare una mediazione efficace. Sul tappeto però ci sono nodi difficili da sciogliere, come quello della responsabilità degli ingressi. Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro chiedono che abbia un limite massimo di due anni, mentre Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia ha otto. Altra questione è quella dei rimpatri. I paesi di origine, dai quali sono partiti i migranti, che dunque dovrebbero essere disponibili ad accoglierli, chiedono maggiori fondi. Il capitolo finanziamenti è un altro passaggio difficile. Bruxelles propone che il parametro per la ripartizione sia quello di un'assegnazione che tenga conto, prima di tutti, di quei paesi che hanno avuto costi più alti dovuti all'integrazione, ma anche alla gestione dei rifugiati. Le indagini sull'omicidio di Sunaya Sacco, il maliano ucciso con un colpo di fucile alla testa mentre si trovava con altre due persone nella fornace, posta sotto sequestro dieci anni fa per un traffico di rifiuti. A sparare sarebbe stato il nipote di uno dei proprietari della fornace che è stato riconosciuto, o quantomeno è stata riconosciuta, l'auto che guidava da uno dei due ragazzi che si trovavano con Sacco. È un agricoltore italiano, vive a San Calogero nel Vibonese, è il nipote di uno dei soci proprietari della ex fornace in cui è avvenuto il delitto. È indagato per l'omicidio di Sumaila Sacco, il 39enne originario del Mali appartenente all'Unione Sindacale di Base, ucciso sabato scorso raggiunto alla testa da un colpo di fucile a pallettoni mentre cercava delle lamiere in quella fornace. Abbandonata dopo un sequestro giudiziario avvenuto dieci anni fa per un traffico illecito di rifiuti. L'uomo, finora principale sospettato, sarà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti balistici per verificare il suo effettivo coinvolgimento. Gli inquirenti sono arrivati a lui in base al racconto dei due amici della vittima, anche loro di origine maliana, testimoni oculari del delitto. I due hanno detto di aver notato l'arrivo di una panda di colore bianco, l'arrivo di un uomo che avrebbe sparato più volte con un fucile a distanza prima di darsi alla fuga. Una vecchia panda, proprio il tipo di automobile di cui Antonio Pontoniero, 43 anni, incensurato, è proprietario e su cui sono in corso i rilievi scientifici. Fino alle indagini non hanno evidenziato un movente xenofobo o direttamente legato alla criminalità organizzata, ma le indagini sono ancora all'inizio e la famiglia del sospettato avrebbe avuto in passato legami con l'andrangheta calabrese. Non siamo insensibili, Sumaila Saco era un bracciante e un immigrato regolare che lavorava in maniera precaria. La sua tragica fine merita l'attenzione del governo, ha detto il presidente del Consiglio Conte, che ha ricordato la vicenda e condannato l'episodio nel corso del discorso programmatico per la fiducia pronunciato al Senato. È morto oggi Pier Carniti, storico segretario della CISL, aveva 81 anni, era stato il segretario generale del sindacato dove aveva cominciato nel settore metallo-meccanici dal 79 all'85. Era stato un grande sostenitore dell'unità sindacale e toccò proprio a lui rompere con la CGL sull'accordo di San Valentino dell'84 che congelava la scala mobile. Una posizione mantenuta nonostante le opposizioni della base e le contestazioni nelle piazze. La vicenda lo segnò al punto che nell'85, dopo la vittoria del nuovo referendum abrogativo, abbandonò la guida della CISL, cedendola a Franco Marini. Fu due volte europarlamentare, prima col PSI poi come indipendente nelle file dei DS. Tra il 93 e il 94 fu anche senatore per i socialisti. Cremonese di nascita, cattolico ma mai democristiano, era anche parente della poetessa Aldamerini. E adesso le immagini di quella straordinaria impresa di Marco Cecchinato a Roland Garrosa a Parigi. È arrivato in semifinale battendo l'ex numero uno del mondo, Novak Djokovic. Cecchinato si è imposto in 4-7, 6-3, 7-6, 1-6, 7-6, 13-1. Sono poi nel tie-break decisivo dopo una battaglia durata tre ore e mezza. Dopodomani il tennista italiano affronterà l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del mondo, e si giocherà così l'accesso alla finale. Dicevamo, un risultato importante, storico. Erano 40 anni che un giocatore italiano non raggiungeva la semifinale di un grande slam. L'ultimo era stato con Rado Barazzutti a Parigi nel 78. Cecchinato a inizio dell'anno era oltre la centesima posizione mondiale. Grazie ai risultati che ha ottenuto a Parigi, è già entrato tra i primi 30 del ranking. E questa era l'ultima notizia. È l'1 e 9 minuti in questo momento. Noi ci fermiamo. L'informazione, come sempre, torna domani mattina alle 7. Rivederci, buonanotte. Rado Barazzutti a Parigi. Rado Barazzutti a Parigi. Rado Barazzutti a Parigi. Grazie.